Hanno bisogno di soldi per sposarsi, così lui, un 28enne, chiede a lei, che invece ha quasi 18 anni, di prostituirsi. Una vicenda che ha dell'incredibile quella che è avvenuta a Chieti e che racconta di una storia d'amore che purtroppo per la ragazza, ora 20enne, si è trasformata in un incubo. I due si sono incontrati nel 2021 in occasione di una festa tenutasi in un ristorante dove lui, uno studente universitario di 28 anni, lavorava occasionalmente. Iniziò così la loro relazione, ma dopo poco tempo il giovane, nel chiederle di sposarla, le rivela di non avere soldi e di aver bisogno di guadagnarne alcuni. Così la convince a prostituirsi per finanziare il loro matrimonio. Gli annunci vengono pubblicati su siti di incontri con un numero di telefono cellulare gestito dall'uomo, stabilendo un prezzo tra 200 e 250 euro per ogni prestazione. La ragazza accetta, ma il compagno vuole sempre di più. La 18enne allora incontra clienti in varie località, da Pescara a Roma, dall'Aquila a Teramo, un'agenda fitta con addirittura una decina di incontri al giorno con clienti ignari del tutto della sua giovane età e vulnerabilità. Ad un certo punto però la ragazza conosce un altro giovane che è diventato il suo attuale ragazzo e che la incoraggia ad uscire da quel tunnel di abusi anche grazie all'ausilio di un avvocato. La giovane viene seguita da un centro antiviolenza e viene presentata una querela preceduta dalla richiesta di un incidente probatorio per garantire la solidità delle sue dichiarazioni. Durante lo stesso incidente probatorio, dinanzi al GIP, la ragazza ha coraggiosamente confermato le accuse nei confronti dell'uomo che l'aveva indotta alla prostituzione. Nel frattempo, dagli atti di indagine, è emerso che i clienti hanno confermato gli incontri diretti con l'allora fidanzato della giovane. La procura valuterà attentamente il caso e il giovane rischia l'accusa di induzione alla prostituzione e sfruttamento.